Buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è venerdì 9 dicembre 2022 e riprendiamo la nostra lettura dei giornali dopo la pausa che abbiamo osservato per la festività della Immacolata. Passiamo comunque attraverso l'almanacco del giorno e vediamo come oggi si festeggia San Siro di Pavia, dalla Palestina a Pavia. Siro ha preso il Vangelo direttamente dagli Apostoli, lo predicò in molte località italiane, le città che allora stavano sorgendo, erano quelle dell'Impero, Verona, Venezia, Milano, compiendo molti molti miracoli. Grazie a lui si convertirono molte persone, soprattutto Milano lo festeggiò e ancora oggi San Siro appare come un santo significativo, accanto agli altri santi, Ambrogio, Agostino e via dicendo, tanto che gli hanno intitolato anche lo stadio della città. Passiamo ora anche alle previsioni del tempo. E vediamo che in tutta la regione il tempo si mantiene perturbato. Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e rovesci anche temporaleschi. In temporanea attenuazione nel pomeriggio, i venti sono moderati, il mare è poco mosso e le temperature si aggirano tra i 10 gradi, che è la minima, e i 15 gradi, che è la massima. A questo punto vediamo che il sole sorge alle 7 e 29 e tramonta alle 16 e 29. Ciò detto, passiamo alle notizie e la lettura dei giornali. Ed ora voglio parlarvi di un evento, di un evento che è stato presentato l'altro giorno dal presidente della Fondazione Carifano. È una mostra, una mostra di un personaggio che è noto, non come fotografo, è noto soprattutto per essere un importante sociologo della nostra città. Ma lui, Maurizio Tommassini, ha la passione della fotografia. Una passione che coltiva da giovane, fin dagli anni 60-70, quando ha fatto un ritratto di quel momento, di com'era la città di Fano allora. Ma non dell'aspetto, dell'estetica della città, ma dell'atmosfera, dei personaggi, di come si viveva, di quali erano le incombenze. Una bellissima fotografia, importante anche dal punto di vista storico, perché immortala, un momento topico della città di Fano, apre domani universi traslati, una sorta di macchina del tempo che ripercorre la vita vera fanese a partire dalla fine degli anni 60. Ebbene, che cosa si vede in questa mostra, che è così articolata in tanto, oltre 60 fotografie? Ah no, scusate, 141, mi sbagliavo, 141 fotografie che ripercorrono la storia del decennio fanese. Ebbene, si vede il mercato di piazza Andrea Costa, diverso dall'attuale, l'atmosfera dei vicoli dei piatelletti, il mercatino dei ferri vecchi di San Paterniano, la campagna, i lavori della campagna con l'ammietitura, con la battitura del grano, per quanto riguarda i territori limitrofi della periferia cittadina. E poi ci sono anche i carettai, ci sono tanti pesci vendoli, insomma, quelli che vendevano le sementine, insomma, sono quelli personaggi caratteristici di una Fano che ormai è scomparsa per sempre, ma che rimane ancora molto viva nei ricordi di chi ha una certa età, appunto, nella nostra città. La inaugurazione alle 17.30 di domani, la mostra si potrà visitare fino al prossimo 10 gennaio, tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30 a Palazzo Bracci Pagani. Ed ora vediamo la ricorrenza che si è celebrata nella giornata di ieri. Ieri si sono ricordati i giovani che sono deceduti durante la tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Soprattutto Benedetta, Benedetta era la ragazza di Fano che è stata tra le vittime. Benedetta, il ricordo e il dolore degli amici, senza di te quattro anni di vita triste, ha detto il fratello. Un palloncino in cielo al termine della cerimonia che si è svolta in Duomo, una messa in suffragio e poi un convegno nella sala riunioni del Gonfalone. La messa è stata celebrata dai vescovi di Fano e di Senigallia. Senigallia che è il comune che è appunto quello di zona di Corinaldo, insomma quello che fa riferimento a Corinaldo. Ci manchi tanto, abbiamo trascorso quattro anni pieni di tristezza. Così hanno detto anche gli amici di Benedetta ieri mattina che hanno ricordato la ragazza insieme alle altre cinque vittime che sono decedute durante la disordinata fuga dalla discoteca, una fuga che è stata organizzata appunto da una banda di malviventi. Le altre vittime che sono state ricordate, oltre a Benedetta Vitali che aveva solo 15 anni, sono Asia Nasoni, 14 anni, Daniele Pongetti, 16 anni, Mattia Orlando, 15 anni, Emma Fabini, 14 anni, Eleonora Girolomini, 39 anni, era la mamma di una ragazza che era stata accompagnata in discoteca. Ebbene, qui ci sono anche vari aspetti delle cerimonie che ci sono svolte nella giornata di ieri. Vediamo qui il padre di Benedetta Vitali, qui gli amici che fanno volare il palloncino verso il cielo dopo la cerimonia in Duomo. Qui vediamo invece l'incontro nella sala del Gonfalone e qua vediamo altri amici, altri ragazzi che dicono cerchiamo di imparare dalle vite perse. Una cerimonia che è stata organizzata anche dal COGEO, che è l'associazione che riunisce i genitori dei ragazzi che frequentano le discoteche, presieduta da Luigi Nabucci, la quale ha posto due obiettivi. L'istituzione della giornata nazionale del divertimento a livello nazionale è una legge, soprattutto che tuteli il divertimento sicuro. Due obiettivi importanti. Poi vediamo come la cerimonia si è trasferita a Senigaglia, dove si è svolta una serata al Teatro La Fenice, con i ragazzi che hanno letto i testi e ascoltato musica, testi significativi per ricordare l'avvenimento. Anche qui protagonista è stato il COGEO, il comitato che ha l'obiettivo del divertimento in sicurezza. Divertimento sì, ma solo in sicurezza. La forza della musica contro le tragedie è il titolo di questo articolo. Giriamo la pagina e vediamo quello che accade a Colli al Metauro, dove nei guai è il sindaco Pietro Briganti. Affari di famiglia, il sindaco sotto attacco. Ed è l'opposizione che insorge. La casa del suocero venduta ad una ditta di cui lui ha comprato cinque appartamenti, dato anche un appalto senza gara. Ebbè, è una vicenda piuttosto articolata, quella che vede protagonista il sindaco Briganti, che ovviamente dovrà giustificare, dovrà chiarire anche il suo intervento. Si tratta di un'accusa di conflitto di interessi che ha lanciato l'opposizione. Il succo dell'attacco, in parole povere, è questo. Il suocero del sindaco aveva venduto nel 2021 una vecchia casa colonica di Saltara ad una ditta di tre castelli di Ancona, tre mesi prima, ancora prima che la comprasse, il 27 luglio del 2021, aveva inviato una richiesta formale al Comune per abbattere e ricostruire quell'edificio rurale, ancora non suo in quel momento, perché poi l'ha comprato successivamente, per farci cinque appartamenti, ricorrendo presumibilmente al super sisma bonus, che ovviamente concede degli sconti per quanto riguarda il prezzo, fino a un massimo di 96 mila euro per appartamento. E questo era il bonus che si è tentato di realizzare. Ma che cosa è accaduto? È accaduto che la ditta, realizzando cinque unità residenziali, avrebbe potuto praticare un ipotetico sconto del prezzo, grazie al bonus di totale 528 mila euro. Insomma, è una vicenda piuttosto articolata, bisogna ovviamente approfondirla, non si può sintetizzare in due parole, leggendola sul giornale, ma comunque il sindaco ovviamente dice che tutto si è svolto nel regale, tutto legittimo, lo dice anche il giornale, ma coincidenza vuole che il sindaco faccia affari con una ditta che due mesi prima ottiene dall'ufficio tecnico del comune in affidamento diretto, cioè senza gara, la manutenzione del cimitero di Montemaggiore al Metauro. Insomma, ci sono stati degli scambi su cui bisogna fare chiarezza. Bonus acqua ai più veloci? Beh, anche qui l'opposizione insorge a Mondolfo. È l'affondo dei consiglieri di minoranza, Buonaccorsi e Gentili, sul bando che assegna contributi idrici alle persone che sono in graduatoria. Ma il parametro su cui si fa affidamento non è solo quello dell'ISE. Siccome i fondi a disposizione sono limitati, insomma, che arriva prima macina, e questo secondo gli consiglieri di minoranza, Buonaccorsi e Gentili, non sarebbe giusto. A Terre Roveresche riapre il Museo della Corda. Dopo tre anni, domenica, ci sarà l'inaugurazione alle 14.30. Una inaugurazione legata all'evento con la voce di incanto, organizzato dalla scuola primaria di Orciano insieme al coro Gaudium Vocis e all'ACLI di Toniolo. A Urbino i cappuccini sono davvero risorti e sono risorti grazie alla Caritas che vi ha installato la sua sede. Il convento andava in rovina. Per fortuna si è recuperato, è stato restaurato dalla Caritas di Ocesana e che vi ha aperto un centro di accoglienza. Il progetto di riqualificazione è costato più di mezzo milione di euro, 500 mila euro, che ora comunque offre una struttura importante per aspetti di carattere caritativo. Il luogo amato da Barocci e Pascoli, un articolo di Spalla che riguarda Urbino, ebbene, è un luogo sempre quello collegato a questa vicenda che dà un senso anche di cultura, di magia, perché poi la poesia, quando si parla di Pascoli, oppure la poesia pittorica del Barocci determinano una grande suggestione. Ed ora ancora, ancora cronaca, a Fominiano è stato trovato, pestato e trovato in strada di un giovane albanese che a Fominiano è stato ritrovato legato, dopo essere stato pestato. Le indagini sembrano ricollegare il fatto agli incendi delle tre auto che si è verificato nei giorni scorsi. Il giovane è stato portato all'ospedale Urbino, dove gli hanno diagnosticato alcuni giorni di prognosi. Interrogato dagli inquirenti, non sembra però che abbia fornito indicazioni utili per rintracciare gli autori del pestaggio. A Urbino si parla anche del presepe vivente rinascimentale che animerà il centro storico della città ducale, ricostruito sulla impostazione del Perugino per quanto riguarda l'omaggio dei magi alla capanna di Betlemme, un dipinto molto bello di Perugino. E anche a Ferminiano si parla di natività, una natività che nasce da materiali riciclati. È in esposizione il lavoro di Marcello Bolognini. Diamo anche un'occhiata alle pagine pesaresi, dove sul resto del carlino si parla del terremoto, 15 scosse di assestamento, veramente una dietro l'altra. Alcune sono anche di particolare intensità. Quella delle 8 di ieri mattina, 8,08, è stata calcolata di 4 gradi della scala Richter, quindi non una scossetta, ma una scossa importante. I danni sono in aumento. Il governo tace comunque sullo stato di emergenza che è stato richiesto dalla Regione Marche. L'assessore Riccardo Pozzi dice una prima stima per 30 milioni non ha ancora avuto risposta. Insorge anche il consigliere regionale Biancani. Servono risposte al più presto, ha dichiarato l'esponente politico. Ed ora diamo un'occhiata invece alla festa che si è svolta in Piazza del Popolo ieri. Guardate che fotografia, quanta gente c'era all'accensione dell'albero natalizio. Via senza luminari. Tuttavia è stata una festa che è stata organizzata un po' al risparmio. Sapete che le bollette dell'energia elettrica hanno subito un aumento considerevole, ma l'accensione in piazza è stato veramente uno spettacolo. Nel momento in cui si è acceso l'albero, una pioggia di coriandoli è piovuta sulla folla e la piazza si è veramente riempita. Vedete qui che bella immagine. Poi ci sono anche altre fotografie. Ve le faccio vedere. vi faccio vedere anche questa bella renna luminosa alta 10 metri, una renna fatta di luce che è stata la più fotografata fin dalla mattina. Ma è facile però prevedere che il Pony Eolo, protagonista del villaggio natalizio dell'Avis in Via Curiel, sarà il preferito dei bambini. Insomma, tra il Pony Eolo e la renna di Babbo Natale sono questi un po' gli aspetti che più danno suggestione ai bambini. Tra musica e danza e tanto altro, ecco il programma delle iniziative natalizie. Il calendario prevede iniziative tutti i giorni. Il Pony Eolo con gli Elfi dell'Avis è in Via Curiel. E qui vediamo anche il coro Grillo d'Oro che si è esibito ieri pomeriggio in Piazza del Popolo, arricchendo con il suo canto la suggestione della cerimonia natalizia. Ed ora invece passiamo ancora alla cronaca e il giornale rievoca uno stupro, un nuovo stupro. Ce ne sono parecchi questi giorni sui giornali. Stupro una passante condannato a sei anni. Il fatto venne a Fano. Lei mi ha violentato lei dice mi ha violentato in strada senza pietà. Pensate, lo stupro è avvenuto all'aperto tra due auto nella zona della Paleotta. La donna è intervenuta al processo per guardarlo negli occhi. Mi gettò a terra tra due auto dopo avermi minacciato. L'uomo le ha chiesto scusa ora dopo aver compiuto ovviamente il misfatto. Questo è accaduto nel febbraio del 2000 nel febbraio scorso. L'uomo un romeno di 21 anni operaio dei cantieri nautici nel Fanese ha bloccato la sua vittima alle spalle e l'ha buttata a terra dicendogli di avere un coltello in tasca e che l'avrebbe usato per ucciderla se avesse urlato o fatto resistenza. Questo appunto è accaduto nel febbraio scorso nel quartiere della Paleotta a Fano. L'altro ieri il violentatore è stato condannato con rito abbreviato dal GUP di Pesaro a sei anni di reclusione per violenza sessuale. Lui ha chiesto scusa ma ovviamente questo non ha influito sul fatto della pena. Tribunale ogni giorno cinque processi per violenza su donne. Questa è un po' la tendenza una tendenza preoccupante. Ogni giorno si celebrano in tribunale a Pesaro processi che vedono imputati per violenza sessuale ex fidanzati ex mariti o amici di una sera raramente ma i processi riguardano come nel caso della donna di Fano un uomo che ha violentato senza ombra di dubbio una donna che ha incontrato per strada pochi attimi prima. Purtroppo ci sono anche casi di violenza non sessuale ma violenza così sic et sempliciter che si fanno dentro casa mariti con le moglie addirittura anche figli verso le madri e via dicendo e qui vediamo anche una notizia che riguarda la vediamo poi la vediamo un figlio di una mamma che allontana la genitrice fuori di casa la butta fuori insomma non ne vuole più sapere lui in casa vuole restare da solo ovviamente poi sono intervenuti anche i carabinieri ma ne parliamo vediamo questa invece pagina politica che pubblica oggi il resto del Carlino riguarda che riguarda il sindaco Ricci che rompe gli indugi per la sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico congresso Partito Democratico una conferenza stampa nazionale oggi in comune per svelare le mosse voglio una sinistra voglio più sinistra ma di governo ha dichiarato Matteo Ricci e invece l'altra notizia nell'altra metà della pagina riguarda un po' la crisi del Partito Democratico diminuiscono gli iscritti in città sono ormai solo un centinaio domani ci sarà l'open day in sede i numeri delle tessere sono molto molto esigui ma c'è tempo fino al 25 gennaio prossimo per iscriversi così dice il segretario cittadino Giampiero Bellucci porte aperte non solo a chi è con noi dice appunto l'esponente politico e poi il 5 dicembre scorso si è aperto il nuovo si è riaperto diciamo così il punto nascita al San Salvatore di Pesaro un maschietto battezza il punto nascita il primo nato ha quattro giorni dalla riapertura tre chili e mezzo i medici hanno fatto un taglio cesareo il primario Claudio Ciccoli mi piacerebbe lavorare dove nascono 1500 bimbi l'anno non ha senso tenere due unità ha detto il primario Pesaro e Fano a 15 chilometri di distanza l'importante è disporre del personale per l'emergenza quindi intervenire nel più breve tempo possibile quando la situazione comincia ad aggravarsi e poi c'è una dichiarazione che riguarda appunto questo dualismo tra Pesaro e Fano il giornalista Alessandro Mazzanti chiede al primario in sostanza lei sta dicendo che solo Pesaro dovrebbe avere il punto nascita e Fano no? Ebbene Pesaro dice Ciccoli essendo capoluogo di provincia deve avere il punto nascita ma se non si considera come un'unica realtà con Fano usciremo sempre sconfitti da una politica sanitaria che oggi richiede eccellenze e una organizzazione al passo di quello che la gente vuole mi auguro che questa nuova AST l'azienda sanitaria territoriale possa ridisegnare tutto questo aspettiamo fiduciosi ma i politici devono ascoltarci ha detto Ciccoli e qui vediamo l'articolo che vi avevo annunciato litiga con la madre e la butta fuori casa la donna di Gabic è rifugiata sin auto ha chiamato i carabinieri per rientrare nell'abitazione il figlio 24enne li ha aggrediti ed è stato arrestato vediamo anche il corriere adriatico l'apertura su Fano riguarda invece la strada degli yacht da Bellocchi al Porto dieci giorni per giocarsi la pista del futuro ebbene c'è tempo fino alle ore 12 del prossimo 20 dicembre per presentare all'amministrazione comunale di Fano l'offerta e anche la documentazione richiesta per accedere al bando della strada delle barche è un bando che prevede un importo un investimento di 793.752 euro e finalmente si avrà questa infrastruttura che ora viene considerata strettamente necessaria da tutte le aziende che operano nella cantieristica una struttura vedete un attimo qui c'è una specie di rendering che evidenzia il progetto parte dalla discesa del cavalcaferrovia che unisce Viale Piceno da Viale Ruggeri attraversa la zona del bersaglio e quindi anche l'ex pista dei go-kart per poi unirsi a Viale Ruggeri diritto al divertimento in sicurezza una legge per riscattare il dolore si parla della tavola rotonda del giorno della tragedia di Corinaldo messa per Benedetta e le altre vittime e di questo ne abbiamo parlato diffusamente e poi sul giornale si parla anche di uno spettacolo che avrà luogo domani sera al Teatro della Fortuna si tratta di Meravigliosa verrà così annunciata una bella canzone che ha fatto Bungaro insieme ai ragazzi di Bellocchi siamo costretti a chiudere questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per la visione